ciao grandissimi siamo qua oggi perché vi vorrei parlare un po di modellismo che ultimamente l'abbiamo un attimo snobato io sono anche un appassionato di automobili di modellismo quindi vorrei portare avanti questa rubrica dove vi farò vedere 123 modelli alla volta magari ne parliamo anche un attimo perché è una passione che associo molto all'orologeria e dopo quando vedrete nel dettaglio queste due automobili potrete capire il perché perché sono veramente oggetti realizzati in una maniera ineccepibile sono fatte benissimo sono logicamente questi due modelli modelli di gamma abbastanza alta sono forniti entrambi dall auto art che è una ditta molto importante nel settore del del modellismo abbiamo due tipologie diverse sono entrambe due automobili che hanno corso alle mani la porsche e la bugatti eb 110 la porsche 911 gt1 sono due auto che hanno una filosofia diversa nel caso delle b 110 abbiamo un'automobile che nasceva stradale e poi dopo è stata evoluta e sviluppata e giustamente elaborata per correre della 24 ore di le mani che purtroppo non ha concluso dall'altra parte abbiamo la porsche il la base gt1 che nasce ovviamente come vettura da corsa dove sono state prodotte anche alcune stradali ma comunque l'idea è appunto di un'automobile nata per le corse quindi è tutto un progetto diverso sono anche due modelli diversi in quella che è stata la concezione dell'auto art nel progettarli in quanto la porsche decisamente vecchia scuola quindi abbiamo un'automobile ancora tutto in metallo con sospensioni funzionanti attive mentre per quanto riguarda la bugatti abbiamo un nuovo tipo di struttura che è in resine resine polimeri che rende il modellino più leggero più dettagliato però si perde un attimo quello che il gusto insomma ad avere il modello in metallo che sentite pesante che vi dà quell'idea di oggetto più più pregiato più costoso più lussuoso ma comunque quello che volevo farvi vedere è innanzitutto questi due modellini che io trovo assolutamente splendidi ho una passione per gli automobili dalle manne purtroppo non potendo comprare quelle vere prendo il modellismo e vorrei farvi vedere nel dettaglio quanto siano fatte bene cioè quanto questi modellini non siano più giocattoli ma siano diventati oggetti da esposizione e da collezione da avere da possedere e da ammirare dentro la loro vetrinetta ma detto questo adesso passiamo a guardarli un pochino meglio ed eccoci qua amici ve le voglio far vedere nel dettaglio guardate la porsche tutti quanti i dettagli di quella che è la massa radiante le sospensioni che come vedete funzionano i cerchi e le relative pinze quindi abbiamo insomma un modello che è estremamente dettagliato in tutta quella che è anche la sua carrozzeria fino arrivare al vano motore dove ovviamente c'è il 6 cilindri sovralimentato con cambio manuale posto dopo il motore per una migliore distribuzione dei pesi avere la l'unità totalmente centrale guardate nei dettagli quanto sono effettivamente rifinite tutto quello che il comparto sospensioni quello che l'airbox in carbonio ovviamente le sigle gt 1 lo sponsor che mobile one anche tutto quello che è l'interno quindi sedili re caro con tutte le cinghiette le fibbie i bocchettoni per il rifornimento guardiamo anche quelli che sono i pezzi di carrozzeria quindi interamente realizzati in metallo musetto con il relativo cofano questa è la numero 25 arrivò seconda a le man la numero 26 arrivò prima questa invece è la parte posteriore dove c'è anche la lettone con tutti quanti i diffusori quindi capite che un modello realizzato con estrema estrema cura ora passiamo a vedere invece quella che è la bugatti che anche questa devo dire realizzata con una cura eccellente nonostante sia resina ma notate subito che la carrozzeria è decisamente più dettagliata ovviamente le sportelle con l'apertura verticale tutto quello che è anche qui l'interno roll bar indicatori dettagli delle ruote ovviamente sempre cerchi bbs tutte le scritte gt1 il modello è molto più leggero della porsche si muove decisamente in maniera molto più agile pur avendo un livello di dettaglio veramente altissimo andiamo a vedere quello che è il cuore pulsante di questa magnifica creatura prodotta in provincia di modena a campo galliano dal signor romano artioli qui abbiamo i 12 cilindri quadri turbo 60 valvole uno dei motori migliori mai realizzati a livello di prestazioni e a livello anche di complicazione perché comunque parliamo di un motore che è molto incasinato avendo anche l'auto la trazione integrale quindi in questo caso abbiamo mai un'automobile 4x4 volevo farvi apprezzare i dettagli di quella che è la carrozzeria di quanto sia comunque veramente fedele all'automobile originale di cui c'è un esemplare solo ne esiste una soltanto qui ancora andiamo a vedere un attimo la porsche comunque due modelli veramente splendidi tutti in metallo comprese anche le sportelle tutta quella che è la carrozzeria per un modello fantastico ve le faccio ammirare anche ricomposte perché voglio che vi rendiate conto di quanto siano assolutamente belle e dettagliate queste queste automobili questi modellini io credo che siano stupendi ne vedremo anche tanti altri ne ho una discreta collezione quindi avremo modo di poterne apprezzare svariate sono voluto partire da queste due perché per me hanno un significato molto importante in quanto porsche uno dei miei marchi preferiti in quanto la bugatti la producevano vicino a casa mia ho potuto visitare anche l'azienda che era in stato di di abbandono però è un marchio un'automobile a cui sono molto molto legato ma torniamo per le conclusioni eccoci tornati ragazzi sono qui in compagnia anche del fantastico pedro questa è una delle mie passioni ve le ho volute far vedere mi scuserete se purtroppo non c'era la luce del sole ma qua il sole latita da un pochino volevo farvele vedere farvele apprezzare perché molti mi hanno chiesto anche sul modellismo insomma quelle che che sono tra le mie passioni più più importanti e quindi volevo insomma che voi poteste capire ed apprezzare quella che è la qualità di questi fantastici modelli di una passione secondo me molto bella che io associo molto anche all'orologeria in quanto mi piacciono molto gli orologi cronografi e quindi diciamo che le due cose secondo me si legano molto molto bene insieme quello che la storia dell'automobilismo e quella che la storia dell'orologeria che rimangono comunque unite anche tutto detto questo io vi ringrazio se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale seguitemi anche sulla pagina instagram lo zio polli come sempre è stato un piacere da me da pedro e tutto ciao grandissimi